Salve a 42 il numero dei morti per coronavirus in regione, si sfiorano gli 800 contagi totali, strutture per anziani in difficoltà, decima vittima a Morteiano, una ventina di positivi anche alla Chiabà di San Giorgio. Dopo una decina di giorni di ospedale, Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco, racconta commosso il calvario coronavirus, salvato dai medici, ma su quel letto da solo mi è passata davanti tutta la vita. Il governo non vieta la corsa all'aria aperta se fatta individualmente vicino a casa, il Veneto fissa la distanza fino a 200 metri dalla propria abitazione, Federica invece conferma l'ordinanza di ieri per cui in più di Venezia Giulia è vietato uscire per correre. In arrivo all'ospedale di Udine nuove apparecchiature grazie alle donazioni raccolte da Udinese TV, strumenti utili nell'emergenza ma anche quando il covid-19 sarà sconfitto. I bianconeri proseguiranno il lavoro ginnico nelle proprie abitazioni per altre due settimane e si attende la risposta dell'asso calciatori sul taglio degli stipendi. Buonasera, benvenuti all'appuntamento con il TG News 24, bilancio sempre più pesante per quanto riguarda il coronavirus. A livello nazionale si contano 793 morti nelle ultime 24 ore. Il bilancio è pesante anche nella nostra regione dove il quadro complessivo in questo momento parla di 790 contagi complessivi, comprese le persone guarite e il numero dei morti che è salito a 42. Vediamo il servizio. Non fa marcia indietro il governatore Massimiliano Fedriga. Sport all'aperto e passeggiate sono vietati e supermercati devono restare chiusi la domenica. Il presidente della regione ha emanato un'altra ordinanza per confermare le misure assunte giovedì scorso in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. In Friuli Venezia e Giulia, quindi, nonostante le disposizioni contenute nel provvedimento approvato ieri dal Ministero della Salute, nulla cambia rispetto al quadro già in vigore. Salvo proroghe o ulteriori modifiche, le regole e i divieti stabiliti nell'ordinanza regionale resteranno in vigore fino al 3 aprile. Intanto, secondo il Ministero della Salute, i contagiati in regione hanno raggiunto quota 790, mentre i decessi sono stati 42. Tra questi c'è anche la decima vittima a Mortegliano, ancora un ospite della casa di riposo Rover e Bianchi. Sul territorio regionale continuano a emergere nuovi casi di positività. A San Giorgio, dove risultano esserci 20 contagiati alla casa di riposo, di cui 14 ospiti e 6 operatrici, un container della protezione civile per effettuare i tamponi è stato posizionato davanti al distretto sanitario Ovest. In modulo da mercoledì 25 sarà operativo, su segnalazione dei medici di medicina generale. Sarà la stessa azienda sanitaria a contattare le persone, fissando data e ora, per evitare gli assembramenti. Ad artaterme sono stati rilevati altri due casi positivi, ovvero due soggetti già in quarantena in seguito al primo caso accertato. E a Socchieve, il sindaco Coriglio Zanier ha scritto ai suoi concittadini in riferimento al primo caso di contagio, che ha interessato la farmacista del paese. La donna, che sta reagendo bene alle terapie mediche, nei giorni scorsi aveva già messo in pratica le rigide disposizioni in materia di precauzione e contenimento della diffusione del virus. Quindi chi ha frequentato la farmacia non si deve preoccupare. Al momento sia la famiglia che i suoi contatti più stretti sono sottoposti a controlli e quarantena precauzionale, rispettando tutte le misure del caso. E adesso vediamo la mappa del contagio nella nostra regione con i dati disponibili alla giornata di ieri. Si distribuiscono i contagi in Friuli Venezia Giulia. Grazie a tutti. 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 molto struggenti, toccanti dei camion dell'esercito che a bordo ospitano le bare a Bergamo, qui siamo a Bergamo, bare che verranno poi portate in varie città, varie località del nord Italia per la cremazione. Sono una settantina i feritri che questa mattina sono stati caricati sui camion per essere trasferiti dal cimitero di Bergamo, come dicevamo, in altre zone del nord, in particolare in Emilia Romagna per la cremazione. Anche oggi a Bergamo si assiste dunque ad un nuovo drammatico corteo dei mezzi come quello della sera del 18 marzo scorso con le bare dei propri cari per i quali non è nemmeno stato possibile organizzare il funerale perché le regole per contrastare la diffusione del virus lo vietano. 50 delle bare partite questa mattina da Bergamo sono arrivate intorno alle 14 a Ferrara su un convoglio militare scortato dai carabinieri del radiomobile del casello autostradale. I feritri sono stati distribuiti tra la Certosa di Ferrara e il cimitero di Copparo. Quello di ieri è stato il giorno più duro dall'inizio dell'emergenza con 627 nuove vittime in 24 ore, ma come avete potuto sentire nel bollettino di Borrelli e nell'apertura del nostro telegiornale, le vittime hanno superato oggi la quota di 753 e dunque ed è un nuovo record in 24 ore per quanto riguarda il numero delle vittime, un bilancio dunque che continua ad aggravarsi giorno dopo dopo giorno. Per fortuna c'è chi ne viene fuori, sono tante le persone che guariscono, anche chi è passato per le cure in terapia intensiva. È il caso dell'ex sindaco di Remanzacco, Dario Angeli, che è stato appena dimesso dall'ospedale di Udine dopo essere stato ricoverato proprio perché colpito dal coronavirus. Ascoltiamo la testimonianza raccolta da David Zanirato. Come sta innanzitutto Angeli? Diciamo che sto bene, sono in convalescenza passo dopo passo, comunque mi sento bene e ringrazio naturalmente tutti i medici, bravissimi. L'ha scoperto del positivo, sì è stata una cosa abbastanza normale e non stavo male. Dopodiché in un pomeriggio la situazione è precipitata e mi sono sentito che mi mancava il respiro. Fortunatamente ho chiamato immediatamente il 112, sono venuti con la tubulanza e mi hanno preso per fortuna in tempo perché se non avessi considerato questa cosa probabilmente non so come sarebbe andata a finire. I sintomi che ha avuto dopo il primo tampone che ha effettuato a seguito del focolaio che era scoppiato a Remanzacco? I sintomi erano banali, era un po' di tosse, qualche linea di febbre e dopo invece di un momento all'altro come le dico in un giorno è precipitato tutto, brividi di freddo, si è alzata la febbre e mancanza di respiro. In ospedale a che profilassi l'hanno sottoposta? Io ho letto anche sulle dimissioni, mi hanno dato dei farmaci per curare l'HIV. Quanti giorni effettivi ha passato in ospedale? Io sono entrato martedì e sono uscito il giovedì dopo. Mi commuove parlarne perché ho visto medici, infermieri e tutto il personale con un'umanità non rendendosi conto neanche del loro rischio, diventano tuoi amici e tuoi alleati nella guarigione. Da questa esperienza Angeli, che consigli può lasciare a chi ci sta ascoltando al cittadino ancora che non si rende conto di questa emergenza? Guardi, io ho cercato di fare anche degli appelli anche quando stavo male. Comunque io spero che tutti si rendano conto di rispettare quello che viene chiesto. È sicuramente un sacrificio, però ripeto, un sacrificio che può salvaguardare, salvare la salute, salvare la vita e darci al più presto la possibilità di ritornare nella normalità. A chi naturalmente non crede a queste cose le faccio presente che nel letto di un ospedale da solo ti rendi conto, ti passa tutto il film della tua vita e parli col muro e con Cristo. Quindi non augurando a nessuno questo, ragazzi rispettiamo tutto quello che ci dicono. È in questo momento difficile per il Paese e per la nostra comunità. Udinese TV ha ricevuto diverse richieste di telespettatori desiderosi di contribuire al potenziamento dei servizi di assistenza della terapia intensiva presso l'ospedale di Udine. Da giorni ci siamo messi subito al lavoro per fare da tramite tra queste persone desiderose di rimanere nell'anonimato e i fornitori di apparecchiature utilissime ai sanitari che combattono contro gli effetti del Covid-19 sui pazienti che nella forma più grave sono costretti ad essere ricoverati nel reparto di terapia intensiva. Ad oggi Udinese TV è riuscita ad assicurare alla terapia intensiva dell'ospedale di Udine una donazione di due monitor defibrillatori apparecchi di ultima generazione in grado di monitorare i parametri dei pazienti e allo stesso tempo permettere in caso di emergenza cardiaca di intervenire immediatamente con il defibrillatore. È un monitor multiparametrico che serve per monitorare i parametri emodinamici, metabolici e la profondità della sedazione. Questo è soltanto il primo intervento che permette intanto in tempi rapidi di contribuire ad ampliare la dotazione di apparecchiature indispensabili in questo momento di grave emergenza ma che saranno utili alla comunità anche quando il Covid-19 sarà sconfitto e dunque anche la nostra emittente sta facendo la sua parte attraverso questa opera di collaborazione con chi ci ha contattato e volendo rimanere anonimo ha individuato in noi il tramite per poter effettuare queste operazioni. Come dicevamo è soltanto il primo degli interventi che sicuramente nei prossimi giorni saranno seguiti da altri. Adesso a proposito di terapia intensiva parliamo anche di Gorizia dove 16 nuovi posti di terapia intensiva saranno spostati all'ospedale di Monfalcone a alcuni servizi e quindi a Gorizia ci saranno 16 posti in più. A Gorizia verranno attivati secondo quanto lo ha confermato il sindaco Rodolfo Ziberna in base ad una scelta della regione del fluo di Venezia Giulia dell'ospedale San Giovanni di Dio perché la piastra chirurgica è più moderna e all'avanguardia di altri ospedali del territorio. Spiegato il sindaco abbiamo tante eccellenze fra queste le nostre chirurgie e i nostri meravigliosi medici e infermieri per trasformare provvisoriamente questi letti in posti di terapia intensiva. È stato necessario trasferire alcuni servizi a Monfalcone tenendo presente che già oggi l'attività era ridotta agli interventi su casi improcrastinabili. Sono state trasferite a Monfalcone le urgenze di cardiologia e delle chirurgie mentre tutti gli altri reparti, ha concluso il sindaco, i servizi e le prestazioni continuano ad essere attivi nell'ospedale di Gorizia a partire dal pronto soccorso. E adesso parliamo delle mascherine, più che protezioni, protezioni più che mascherine. Quelle chirurgiche infatti sono impossibili da trovare. Quelle prodotte da aziende e artigiani non hanno nulla a che fare con i presidi sanitari certificati. Una protezione d'emergenza che presto dovrebbe essere fornita ai cittadini anche dalla regione. Vediamo il servizio di Luciano Edelfonso. Col diffondersi del coronavirus è cresciuta in maniera esponenziale la richiesta di mascherine protettive per il viso praticamente introvabili sul mercato. Una domanda che ha spinto molti industriali ed artigiani alla produzione di dispositivi di protezione che però non sempre sono conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria. Un boom di produzione che è avvenuto soprattutto per la versione più semplice delle mascherine, quelle senza valvola di esalazione consigliata per gli addetti ai lavori e ai soccorritori. L'invito di indossare questa tipologia di mascherina è consigliata a tutti coloro che continuano a lavorare, anche in questo periodo di crisi, o a chi esce di casa solo per i casi previsti dalla legge. Ma queste mascherine prodotte in aziende riconvertite o da artigiani volenterosi sono veramente valide? Apporgere l'interrogativo lo studio tuttino di Udine che assistendo un suo cliente, la Norton di Cisterna, pronta a cucire mascherine invece che scarpe, è incappata in lunghe richieste burocratiche con certificazioni che per essere effettuate potrebbero richiedere anche un anno di tempo pur utilizzando un materiale ritenuto idoneo come il cotone per calle. Questo sta a significare che la maggior parte delle mascherine prodotte in questo momento di emergenza non è chirurgica, non ha filtro e dunque non può essere assolutamente comparata a un presidio sanitario, considerando che in molti casi viene proposta addirittura senza elastici, non garantendo al tessuto di aderire perfettamente al volto. Essendo quasi impossibile il reperimento sul mercato delle mascherine chirurgiche, in attesa che la regione di Alvia la produzione di protezioni per contenere particelle salivali e ridurre quindi la diffusione del contagio da coronavirus, il consiglio è quello di proteggersi naso e bocca con sciarpe o bandane, di lavarli spesso e se proprio dovete uscire di casa, di non scordarvi guanti e occhiali. E sicuramente si parlerà ancora molto nei prossimi giorni delle mascherine, così come si parlerà ancora molto dei vari divieti, tra questi quelli che sono stati imposti da alcune regioni, in particolare dalla regione Friuli Venezia Giulia, di chiusura per quanto riguarda gli esercizi commerciali la domenica, ricezione delle farmacie, le parfarmacie e le edicole, ma è assolutamente sbagliato fare file chilometriche per entrare nei supermercati. Alcune ordinanze regionali hanno creato timori di chiusura anticipate, ma è un falso tema. Le derrate ci sono, una volta entrati nei punti vendita della distribuzione moderna, non c'erressa proprio perché gli ingressi sono contingentati come misura di prevenzione al rischio del coronavirus. Quanto afferma Giorgio Sant'Ambrogio, presidente dell'Associazione Distribuzione Moderna, che rappresenta la grande distribuzione in Italia, con circa 27 mila punti vendita da nord a sud. Nell'emergenza sanitaria, osserva Sant'Ambrogio, le vendite nella grande distribuzione vanno aondate. Il 23 e 24 febbraio si era creato il panico e la corsa alle scorte. Dall'8 marzo ad oggi, con l'estensione della zona rossa a tutto il territorio nazionale, gli acquisti sono aumentati ulteriormente. E fino a tre giorni fa, ultimo monitoraggio, stanno ricominciando gli acquisti di massa. E in questo contesto il caos determinato dalle diverse ordinanze comunali non aiuta. I supermercati restano aperti, le merci viaggiano, quindi è inutile ed anche rischioso se non si rispettano le distanze tra individui. Quindi mettersi in fila per ore, come vedo oggi a Milano, ma anche in altre città, gli italiani sembrano fare la spesa come prima di entrare in guerra. E questo è del tutto sbagliato. Vediamo adesso invece altre immagini, perché come sapete sono stati chiusi i parchi, c'è un'ordinanza che impedisce di andare al parco. In alcuni parchi è difficile effettuare delle recinzioni. Vi facciamo vedere il parco Moretti, che oggi abbiamo effettuato delle riprese all'esterno. Qui siamo su altre immagini, ma andiamo a vedere quelle di oggi. Ecco qui, vedete, qui siamo all'ingresso del parco Moretti, siamo andati a vedere che cosa è stato fatto. È stato messo nel nastro, ma come è ben comprensibile, basta girare la colonna a destra e si può entrare all'interno del parco da vari varchi. Chiaramente è impossibile chiudere tutti gli accessi, ma dobbiamo anche molto onestamente dire che non c'era assolutamente nessuno vicino al parco e all'interno dello stesso. È chiaro che questi sono dei semplici segnali per far capire alla popolazione che il parco è chiuso. In alcuni punti dove è stato posto il nastro c'è anche l'ordinanza e dunque si può leggere per chi si trova da quelle parti, ma chiaramente nessuno dovrebbe trovarsi da quelle parti perché, ricordiamolo ancora, bisogna restare a casa. Ecco, vedete lì sull'albero c'era proprio una ordinanza, ecco l'amo inquadrata, eccola qui l'ordinanza che spiega perché il parco è chiuso, per chi ancora non lo sapesse, anche se è difficile immaginare che ci sia ancora qualcuno che ignori quello che sta succedendo. I parchi sono chiusi. C'è un'altra problematica che invece riguarda la situazione dei divieti che sono diversi da una regione all'altra. Il governo dice una cosa, i governatori ne dicono un'altra. In un quadro già complesso di per sé e di generale apprezzione da parte della popolazione non aiuta certo il comportamento di governo centrale e governi regionali che continuano ad emanare decreti, il primo e ordinanze, per stabilire di volta in volta misure di prevenzione del contagio da Covid-19. Dai negozi chiusi la domenica in Friuli Venezia Giulia ma aperti in altre regioni al vincolo dei 200 metri per gli spostamenti non giustificati da comprovata necessità. Runner e camminatori sono stati tra i maggiori additati di non attenersi alle regole finiti nell'occhio del ciclone, dei media ma anche delle stesse amministrazioni locali. Il governo ha deciso che i parchi devono rimanere chiusi ma alcune regioni avevano anticipato questo provvedimento. Roma ha tuttavia lasciato la possibilità di correre purché nelle vicinanze della propria abitazione. In Friuli Venezia Giulia invece è stato vietato ed è vietato di fare attività all'aria aperta. Lo ha confermato Federica oggi ribadendo che quanto stabilito due giorni fa resta valido anche dopo l'intervento successivo del governo. Un po' di chiarezza in questo certamente non guasterebbe. E noi siamo andati anche a chiedere attraverso e chiediamo, vi stiamo chiedendo attraverso un sondaggio su Facebook che cosa pensate cioè se condividete la linea più rigida da parte dei governatori delle regioni in particolare le regioni del nord-est il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e in parte anche l'Emilia Romagna rispetto invece a quello che stabilisce poi di volta a volta in governo che dovrebbe valere per tutta la nazione per tutto il territorio nazionale. Ebbene il sondaggio in questo momento con 428 voti ci dice che condividete al momento il sì sta vincendo ampiamente sul no e quindi c'è condivisione in quelle che sono le iniziative del governatore Federica per quanto riguarda il Veneto e del governatore Zia della Friuli Venezia Giulia e Luca Zai invece per quanto riguarda il vicino Veneto ma intanto polizia e carabinieri continuano senza sosta a controllare che sia rispettato il decreto per il contenimento del virus tanti in perteriti girano per le strade e inoltre sono stati denunciati a Cividale due ultras dell'Inter che avevano esposto uno striscione sparato dei petardi a Polcenigo dei ragazzi sono stati trovati in possesso di stupefacenti vediamo il servizio continuano a fioccare le denunce di coloro che non rispettano il decreto di contenimento del virus e circolano come se nulla fosse due ultras dell'Inter sono stati denunciati anche per accensioni ed esplosioni pericolose per aver affisso uno striscione e acceso torce luminose sul ponte del diavolo Cividale i due avrebbero agito per solidarietà alla famiglia di un altro tifoso che risulterebbe contagiato le indagini della Digos di Udine hanno consentito di individuare un 31enne originario di Milano ma residente in provincia di Udine già noto alle forze dell'ordine e un 38enne residente a Milano in Friuli per motivi di lavoro a Udine il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura arrestato un 39enne italiano che aveva rubato una bicicletta a una dipendente delle poste mentre stava timbrando il cartellino caduto mentre fuggiva in sella al velocipede il ladro è stato bloccato da una volante e denunciato nell'area verde e l'area Alpi quattro giovani alla vista degli agenti sono fuggiti attraverso i giardini di condomini e abitazioni private danneggiando le reti di recinzione un trentenne albanese è stato arrestato per violazione di domicilio e gravata stesso reato per cui è stato denunciato un minore gli altri due italiani sono stati rintracciati in serata e denunciati anche per inosservanza del decreto io resto a casa anche i controlli dei carabinieri continuano senza sosta a Udine a Fagagna il radiomobile ha denunciato sette persone in strada senza giustificazione una di queste una 52enne è risultata anche inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Udine messo dal questore a Rive d'Arcano e a Maiano sono state denunciate diciotto persone tutte sorprese a transitare i militari di Polcenigo hanno denunciato quattro giovani tra cui un 17enne e un 15enne di Budoia che insieme ad altri due studenti del posto erano vicino alla stazione in un modulo da cantiera abbandonato con stupefacenti spinelli e un bilancino di precisione i carabinieri di Prata di Pordenone hanno denunciato invece due rumeni che in piazza Montereale Manti Capasiano erano fermi a chiacchierare e danno adesso di nuovo a Gorizia per fare il punto della situazione per quanto riguarda i camion che continuano ad intervalli più o meno regolari ad intasare le aree che conducono alle vicinanze del confine andiamo a sentire i servizi di Francesca Santoro Resta grande il disagio l'autoporto di Gorizia dove i camionisti in attesa di transitare verso la Slovenia dal valico di Vertoiba si assemblano continuamente riempiendo i circa 400 stalli esistenti le autorità slovene aprono ogni due ore circa un barco che consente a qualche decina di mezzi pesanti di passare il confine quindi gli ammassamenti si formano ripetutamente con decine e decine di camion che arrivano dall'autostrada e che sono diretti verso i paesi dell'est di fatto la chiusura dei valichi a stupizza di Cividale e Fusine Laghi ha fatto sì che da ieri l'unico valico aperto per accedere a Slovenia da Gorizia a Tarvisio sia quello di Vertoiba le cose non miglioreranno nelle prossime ore quando entrerà in vigore il divieto di transito previsto la domenica i comuni di Gorizia la SDAG la protezione civile e la polizia stradale stanno facendo tutto il possibile per gestire la situazione anche per assicurarsi che i conducenti costretti interminabili per affrontare i severi controlli sanitari sloveni mantengano i nervi saldi mentre i poliziotti sono impegnati nel presidio continuo dell'area i vertici della SDAG hanno ordinato di procedere alla sanificazione soprattutto degli spazi comuni usati dagli autotrasportatori intanto ha dato i suoi primi frutti l'accordo sottoscritto tra autorità italiane e slovene per far sì che eventuali casi di camionisti con la febbre siano respinti al confine e lasciati liberi di girare in Italia in base al protocollo condiviso le forze dell'ordine slovene hanno avvisato quelle italiane di un caso a rischio che è stato quindi preso in carico dei sanitari e trattandosi di una persona della zona è stato messo in isolamento casalingo e adesso apriamo la pagina sportiva e lo facciamo ricordando Gianni Mura scomparso oggi giornalista e scrittore dal 1976 storica firma della Repubblica 74 anni si è spento questa mattina all'ospedale di Senigallia in provincia di Ancona per un attacco cardiaco improvviso noi lo ricorderemo questa sera nell'intervista a Tu per Tu che avevamo trasmesso nel 2014 alle 20.30 andrà in onda la lunga intervista realizzata da Luca Cilli ma intanto vediamo una clip vediamo un video che ricorda uno dei più grandi giornalisti e scrittori italiani Gianni Mura Mura l'Udinese è riuscito a creare un modello unico nel calcio italiano c'è riuscita perché probabilmente in quella piazza in quel tipo di realtà si può fare questo tipo di progetto calcistico o perché obiettivamente è stata più brava delle altre anche dei cosiddetti grandi club ma secondo me le due cose cioè è vero che a Udine si può lavorare meglio che a Roma a Milano a Napoli a Torino cioè vale un po' il discorso di Parma si si può lavorare anche facendo dei programmi pluriennali e poi c'è sempre stata una gestione ripeto con il pozzo abbastanza oculata ma già prima ai tempi di Mazza e dei cartelli con la scritta Zico Austria c'ero no non con il cartello in mano però li ho visti voglio dire c'era comunque la voglia di fare una grossa squadra a Udine che non c'era solo Zico appunto c'era un fior di squadra attorno a Zico quindi io penso c'è anche un'altra caratteristica dell'Udinese secondo me su cui si riflette poco e che è l'unico club italiano ad averne due impegnati in un campionato di A spagnolo e di B per il momento inglese cioè ci sono tre club da amministrare e evidentemente chi ne sa amministrare uno ne sa amministrare tre col Friuli con l'Udinese con Udine che rapporto ha avuto o che rapporto ha? Ma io più di 25 anni fa per me Udine era un passaggio sulla strada della Carnia io mi piazzavo a Tolmezzo andavo a Funghi mangiavo benissimo andavo in questi paesini semi dimenticati quasi tutti finivano con una consonante Pesari Spiedin e Udine beh Udine quando facevo le interviste era elettore dell'Udinese che di volta in volta era Giacomini o Enzo Ferrari o Galeone anche mi ricordo che si faceva tardi in vecchie osterie ancora alcune con il pavimento di legno no io sto bene da molti anni ho assimilato i friulani soprattutto di collina e di montagna ai sardi come carattere poi il mio saluto va bene a parte il vecchio inno alle Udin direi mandi i frus e adesso parliamo di Udinese Udinese che tornerà ad allenarsi non prima del 3 aprile il servizio di Alessandro Surza adesso è ufficiale l'Udinese ha deciso di seguire la linea tracciata dall'associazione italiana calciatori i bianconeri quindi non si raduneranno fino al 3 aprile nonostante la fine della quarantena prevista per domani Lasagna e i compagni continueranno ad allenarsi a casa vince quindi il buonsenso e come l'Udinese praticamente faranno lo stesso anche tutte le altre società di Serie A sì perché Lazio e Napoli vanno controcorrente azzurri e bianco celesti riprenderanno gli allenamenti già dalla prossima settimana lo stesso Tommasi presidente dell'Aici ha definito questo atteggiamento come insensato e pericoloso anche perché una reale data per l'ufficiale ripresa delle competizioni ovviamente non c'è potrebbe essere il 3 maggio ipotesi ottimistica oppure potrebbe essere il 17 di maggio ma una ripresa di questo campionato potrebbe anche non avvenire questa ovviamente è l'ipotesi più catastrofica visto che l'obiettivo generale è quello di concludere la stagione ma purtroppo questa possibilità non può essere scartata a priori ecco perché i club sono preoccupati sul tavolo ballano soldi tanti soldi soldi che le società rischiano di perdere si parla di un buco finanziario che può arrivare a toccare quota 700 milioni qualora Serie A e Coppa Italia non riuscissero proprio a ripartire ecco perché al problema legato alla ripresa degli allenamenti si aggiunge quello degli stipendi dei giocatori nella riunione informale tenutasi con la Lega ieri in videoconferenza i rappresentanti dei club hanno chiesto compatti un aiuto a FIGC e governo per provare a risolvere una situazione che definire complicata è riduttivo i club vorrebbero chiedere il blocco degli stipendi almeno per il mese di marzo ma anche in questo caso si è espresso Tommasi spiegando che laici non può imporre tagli ma che dovranno essere gli stessi giocatori a decidere singolarmente la prossima settimana ci sarà un incontro tra FIGC e Asso Calciatori forse se ne saprà di più per ora l'unica cosa che possiamo fare è aspettare sperando di rivedere presto scene così e allora torniamo sulla Gazzetta dello Sport vi abbiamo dato durante il notiziario subito l'ultima ora di Di Bala che è risultato positivo al coronavirus insieme alla fidanzata Oriana lo ha comunicato lo stesso calciatore attraverso i social la notizia sarà pubblicata anche dal sito ufficiale della Juventus oltre che dalla Gazzetta dello Sport adesso sta facendo il giro di tutte le pagine web che si occupano di sport e non solo di sport dunque Di Bala è il terzo giocatore positivo della Juventus dopo Rugani e Matuidi il giocatore sta bene risulta sintomatico ed è in isolamento a casa propria dunque almeno dal punto di vista dei sintomi non ha nessun problema questo è per quanto riguarda la pagina sportiva ci sono giunte delle immagini poco fa in redazione siamo in grado di mostrarvele in chiusura tornando a parlare ecco qui vedete le immagini che mostrano la città di Udine in questo caso le aree verdi questo è il parco del Cormor che viene monitorato dalla polizia locale attraverso l'uso di droni eccole qui le immagini che ci sono state fornite proprio dalla polizia locale di Udine qui siamo al parco Moretti e quindi questo strumento utilissimo servirà a monitorare le aree verdi che sono interdette ripetiamola ancora una volta non si può andare al parco a fare nulla correre, passeggiare portare il cane nulla di tutto ciò qui vediamo che però il drone aveva pizzicato qualcuno che non ne voleva sapere di rimanere a casa qui siamo su altri percorsi battuti dai ciclisti o dai dai podisti abitualmente e questo strumento dunque permetterà di controllare quindi sappiate se avete intenzione di violare le norme quelle che sono state stabilite sia dal DPCM ma in particolare ancora più stringenti dal governo della nostra regione che può esserci un occhio dall'alto che vi controlla ma al di là di questo deve essere per senso civico e per rispetto di tutti rimanere a casa deve uscire soltanto chi non può farne a meno e chi rimane a casa cosa fa? si dedica agli hobby e noi nella nostra rubrica Corona Home TV stiamo raccogliendo tanti video che ci arrivano da casa vi proponiamo quello di oggi e subito dopo la sigla del nostro telegiornale io vi ringrazio per averci seguito ci vediamo domani mattina alle 7 per il primo appuntamento live di giornata quello con la rassegna stampa leggeremo le prime pagine dei quotidiani nazionali e locali e vi daremo le ultime notizie della notte e del mattino arrivederci rite e filippe e decidere finalmente di sposarsi matrimoni a bui nove una rinfresca e svelte e poi viaggio di giovani a venire prenotare tutto per bene con l'agenzia viaggio di o ieri viaggio in albergo si presentino alla reception per consegnare dei documenti e chi ha possesso di chiamare quanto in croci una garandina bionda che si rivolge all'om buongiorno buongiorno arrivarsi in chiamare rite e domande se chiede a filippe allora voglio sapere qui che che er che biondone e filippe per plasì non stas come in Sanche tu o hai vut bielsa avondi problemi a spiegare qui che tu eres tu e bravo agno al covalz mandi grazie a tutti